Emendamenti bocciati anche alla Camera, però la battaglia va avanti, lei insisterà su alcuni punti specifici, quali? Gli interventi necessari per la ricostruzione e per il rilancio socio-economico, quindi primo punto, tasse sospense nel 2009 e da restituire e quindi la battaglia a tutela delle imprese aquilane, quello è un punto assolutamente indispensabile. Chi oggi governa, prima era l'opposizione, diceva lo risolviamo in un giorno, appena ci insediamo, ecco qui che abbiamo già la soluzione in tasca. In realtà se fosse stato così facile l'avremmo fatto noi, era complicato, è complicato e noi lavoreremo insieme al governo per risolverlo. C'è la strada però, è la strada indicata dall'emendamento che ho presentato, che purtroppo è stato bocciato. Il paradosso è che il giorno prima lo bocciano in commissione e il giorno dopo Giorgetti, sostanzialmente nell'incontro importante che c'è stato, conferma la validità del contenuto di quell'emendamento. Comunque, mi continuerò a battere perché venga approvato e poi c'è il terremoto 2016-2017. Abbiamo il tema grave della doppia congruità e quindi di come risolvere il problema degli abusi e degli abusivismi pregressi che bloccano la ricostruzione. Anche su questo ho presentato emendamenti, emendamenti per la riduzione al 40% della restituzione delle tasse anche per il cratere 2016-2017 e poi il 4% anche per il cratere 2016-2017. In realtà gli emendamenti sono 18, questi sono i principali, la battaglia continua. È molto spiacevole questa bocciatura così senza senso, ma continueremo per raggiungere i risultati. Per quanto riguarda le tasse c'è la proroga dei due mesi, quindi l'incontro con Giorgetti sostanzialmente è stato valutato anche positivamente, sono uscite diverse reazioni, però è pur sempre una proroga che non risolve anche perché agosto è un periodo in cui il Parlamento non lavora, a settembre debbono riprendere necessariamente i lavori il rischio è che due mesi passino veramente in fretta. Assolutamente sì, ed è per questo che sarebbe stato più opportuno che chi all'indomani e prima del voto diceva che aveva già la soluzione in tasca, questa soluzione la applicasse subito perché la proroga è bene e però la proroga non risolve e tra l'altro è noto qualche commentatore che quando Gentiloni ha fatto la proroga diceva non basta, adesso invece sembra che la proroga è diventata un miracolo. Non è così, dentro la proroga si deve lavorare per la soluzione. Io la soluzione in testa ce l'ho, è quella disegnata dagli emendamenti che ho presentato. li hanno bocciati, si sono assunti questa responsabilità, però hanno in qualche modo dato ragione e quindi lavoreranno probabilmente a un testo su cui coopereremo tutti nello spirito di servizio che ci siamo dati ma questa soluzione deve arrivare entro la prima metà di settembre altrimenti ci troveremo nella medesima situazione in cui ci siamo trovati ora e quindi magari si proporrà un'altra proroga e credo che invece dobbiamo chiudere sulla soluzione concreta.